Wabalabadabda bentornati su Namamazzo, bentornati nella rubrica Toys & Unboxing Ma non temete, anche se non ho in mano giocattoli, adesso cambierà inquadratura e vi farò vedere cosa ho acquistato È un video che avevo già fatto un po' di tempo fa, ma ho voluto rigirarlo in modo che vediate meglio i prodotti di cui andrò a parlare Lo uso per festeggiare ufficialmente il raggiungimento dei 2000 iscritti sul mio canale YouTube È un Toys & Unboxing un po' strano, nel senso che non ci sarà un vero unboxing, mi dispiace, ma la ragione la scoprirete molto presto Ma voi non temete, perché un video in cui ci sono già questi giocattoli, questi vecchi giocattoli fuori dalle loro scatole, l'ho già fatto Ve lo metto qua nelle schede, ve lo metto qua in descrizione Ma ho voluto acquistare una nuova release di questi giocattoli, che per me sono legatissimi alla mia infanzia E tenerli nella scatola, adesso andiamo a vedere perché Cambiamo inquadratura, scoprirete di cosa sto parlando Forse potreste già averlo intuito Pronti? Andiamo! Eccoci qua ragazzi, eccoci qua in questa inquadratura un po' brutta che adesso migliorerà Decisamente in cui vi mostro il mio ultimo acquisto nerd Ultimo nel senso che davvero tagliatemi il banco Comunque, a parte questo, ragazzi, qua si va nella mia infanzia Vi do un periodo storico, si va nell'87 Per essere precisi, molti adulti che sono appassionati di collezionismo, di vecchi giocattoli Sapranno quanto questi prodottini valgono ancora in scatolati Ovviamente io non sono così folle da prendere una versione originale dell'87 ancora in scatolata di questi giocattoli Ma fortunatamente sono stati ristampati, ricreati per l'anniversario Ma anche perché c'è un prossimo film in uscita Sto parlando di Ghostbusters Il prossimo film in uscita è Ghostbusters Afterlife E se non sbaglio, adesso vi faccio vedere subito Eccoli qua! La Kenner ormai non esiste più E come potete capire che non sono quelli originali Perché la Hasbro ha acquisito la Kenner E quindi questa è la ristampa dei giocattoli Hanno fatto la versione The Real Ghostbusters Poi ci saranno anche dei giocattoli specifici per il film Ho già addocchiato qualcosina Francamente, detto tra noi, l'Ecto 1 non merita Preferisco di gran lunga l'Ecto 1 che ho io Quella che avete visto nel video dei miei giocattoli vecchi dei Ghostbusters Ma se non avete mai avuto un Ecto 1 Comunque vi consiglio di acquistarla Insieme invece ai giocattoli in versione cartunesca Del film di Ghostbusters Che qui in Italia non sono ancora usciti Spero escano molto presto Spero anche che escano in generale Ma nel caso non escano Comunque abbiamo questi fantastici prodotti Guardate che belli i nostri tre scienziati Adesso arriva anche il dipendente dell'anno Il signor Winston Zedmore Che è stato assunto per la troppa mole di lavoro Dei nostri tre scienziati in Ghostbusters 1 Guardate che belli Capirete perché non li voglio aprire Anche se davvero sto lottando contro me stesso Perché io non ho più neanche uno zaino protonico Quindi vorrei tanto toglierli Vorrei tanto metterli sui miei giocattoli Vorrei tanto usare questi Come i giocattoli che ho Sulla mia libreria Che ogni tanto vedete alle mie spalle Però sto cercando di frenare Questo istinto E di tenere questi gioiellini Ancora inscatolati Io ecco anche ho Lo Stay Puft Marshmallow Man Ce l'ho ancora Ovviamente non è più così bianco Qui abbiamo Peter Winkman La voce dei Ghostbusters La bocca dei Ghostbusters Ma anche il leader dei Ghostbusters Devo dire che nei fumetti dell'IDW Non si capisce perché Peter Winkman Possa essere il capo Dato che è sempre quello più Così svogliato nel fare le cose Ma nel libro di Ghostbusters Che magari vi metto qua in descrizione Che narra Le gesta dei nostri scienziati preferiti Durante il loro lancio Durante il loro lancio nella società Della loro attività di Ghostbusters Capirete che Peter Winkman è quello più Ancorato alla realtà Rispetto a Ray e Winston Che invece sono i classici nerd Che quando si tratta di intelligenza sociale Vengono un pochino meno Quindi Peter è il capo dei Ghostbusters Che in The Real Ghostbusters Ha la divisa marrone Poi abbiamo lo scienziato Tra gli scienziati Il nostro fisico Egon Spengler Guardate che bello Che bello Guardate che bello il logo Che sicuramente Se avete avuto questi giocattoli Il logo dei Ghostbusters Si è rovinato Perché ci giocavate troppo Anche le mani Di Egon Come sono perfette Gli occhiali Il ciuffo Questo fantasmino Giallissimo Che io ricordo Che nella versione originale Era di un giallo Più canarino Però potrei sbagliarmi Vi faccio anche notare Che nei cartoni animati Nei giocattoli Soprattutto ci tengono Che ogni personaggio Sia differente Unico Quindi non hanno La divisa uguale Come nel film Hanno la divisa diversa Ma non solo la divisa Anche guardate Lo zaino protonico Il fascio di luce Dello zaino protonico Ha un colore diverso Per ciascuno Peter Winkman Ha il raggio verde Mentre qua Il cavo di corda È uguale per tutti È giallo per tutti Egon Spengler Ha il raggio Rosso Passiamo A Ray Stance Che mi piace molto Questo giallo qui Però vabbè Fa niente Ha classica divisa Originale Ray Stance Questo è quello Che ha tenuto Il colore Anche Nei cartoni animati Ma in compenso Ha cambiato Il colore dei capelli Questa fantastico Fantasma Scimmietta E ha il raggio Arancione Guardate che bello Dulcis in fundo Io ricordo Che il colore Della divisa Di Winston Era tra i miei preferiti Non so se Questa versione Sì Credo che sia Altrettanto magica Guardate come sono Lucidi I pantaloni Un colore Che da piccolo Non riuscivo Ad afferrare Che tuttora Non saprei Dirvi Credo sia un Non lo so Un grigio celeste Ditemi voi Se siete esperti Di colore Un Winston Zedmore Ecco che ci tengo A mostrare Se va a fuoco Ecco Perché ricordo Che da piccolo Gli avevo disegnato I baffi Che aveva nel film Questo è un Winston Zedmore Senza baffi Come abbiamo visto nei cartoni animati Come abbiamo visto in Ghostbusters 2 Però sappiamo tutti Che Ernie Hudson È molto affezionato I suoi baffetti Quindi La versione poi ufficiale Che avevamo visto anche Nell'IDW Nei fumetti Ha di nuovo i baffi E qua Winston Zedmore Ha il raggio Giallo Una cosa Che si differisce Dai cartoni È che Non hanno i colletti Colorati Winston Zedmore Dovrebbe avere Il colletto Rosso Non fate caso Che qua è vestito Come Come Igon Quasi Però Ha il colletto rosso Ray Stance Ci sta Nel senso che Ha il colletto Leggermente più scuro Soprattutto nelle ultime stagioni Ha il colletto marrone Igon Spengler Ha il colletto Rosa E temevo Cioè pensavo che il raggio Fosse un omaggio Al colletto In realtà no Perché poi Winston Non corrisponde E Peter Winkman Dovrebbe avere Il colletto Verde Ma non gliel'hanno messo Io nei miei giocattoli vecchi Ho cercato di rimediare Ma Chiaramente Sono rovinati Per ben altri motivi Di utilizzo Ragazzi Spero Che questi gioiellini Vi siano Piaciuti Ragazzi Vi faccio un complimento Perché se li ammirate Probabilmente avete la mia età Non siete più ragazzi Da un po' Fatemi sapere voi Cosa Come potrei metterli Io pensavo di farci Una specie di quadro Il rilievo E appenderlo Da qualche parte Ovviamente Nella mia stanza Nerd Non in soggiorno Uh Guardate cosa ho notato C'è un piccolo Erro C'è un piccolo sbavo In Peter Winkman Nulla che non si possa Correggere Con un po' Di pulizia Se non fosse Ah ecco È lo sbavo Del Il rosa carne È andato a sbavare Un po' La tuta Nulla che non si possa sistemare Se non fosse Che non voglio aprirli Ma non fa niente Ovviamente so Che questa versione Vi rifaccio vedere Perché In modo che non siate Ingannati Durante un acquisto Questa versione Questa versione Non varrà mai Come le versioni Mai aperte Della Kenner Che possono anche valere Sulle 6 Credo 6 100 euro C'è un prezzo Foglio ovviamente Però un prezzo Che ho visto E non hanno Questo logo Asbro Qua dietro Se trovate il logo Asbro Qua dietro Ragazzi Non sono quelli Della 87 Sono ristampe Potete dargli Ad oggi Non più di 20 euro Che lo pagate 19,90 Vi metto anche Il link in descrizione Così li acquistate Anche voi Poi ci sta Magari tra qualche anno Ne varranno 40 60 Però occhio Occhio Soprattutto tra qualche anno Che se hanno questo Non sono dell'87 Ci sarà sicuramente Qualche data in giro Che vi dirà Quando li hanno stampati Ecco qua Guardate 2 Metto a fuoco 2020 Ok Non 1987 Non fatevi Ingannare Sono fantastici Ma non pagateli più Di quanto Non costino In realtà Io vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Fatemi sapere anche Qual è il vostro Ghostbuster Preferito Ma mi raccomando Non intendo in generale Questa versione Esteticamente Qual è quello Che vi piace di più Io ve l'ho detto Io adoro La tuta di Winston Tantissimo Poi vabbè Ero legato a Peter Perché si sa Alla faccia di Tolla Peter Però I colori di Winston Mi piacciono tantissimo Scrivetelo qua sotto In descrizione Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui Con l'inchino e con l'imbuto Vi saluto Vi dico Arrivedorci Al prossimo video E vi dico anche Che se Questa settimana Sarete a Rimini Comics Io Sarò Da quelle parti Non sarò Fisicamente Tutti i giorni A Rimini Comics Ma sarò da quelle parti Quindi Se vi va Di Di vederci O se per caso Mi beccate Ci salutiamo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti